Quanti sono i soci, dove operano e qual è la loro attività? I soci di Fidente sono allo stato attuale 28, ma ci auguriamo di allargarle rapidamente la compagine sociale con altri soci che sposano ovviamente la nostra filosofia. I 28 soci sono ubiquitari nel Trentino, nel senso che abbiamo dentisti che operano nel Val di Nonno, nella Valle dell'Adige, ma anche nell'Alto Garda e a Tione piuttosto che a Rovereto. La loro attività? La loro attività sono prevalentemente medici-dentisti, in quanto che noi abbiamo la governance del progetto, ma abbiamo coinvolto anche gli altri operatori della filiera, cioè gli odontotecnici, alcuni odontotecnici ed anche i depositi dentali per poter attuare nella realtà questa filiera. Dentisti sociali, vi piace definirli. Siamo abituati all'immagine del dentista che fa soldi più che volontariato. Il dentista tradizionale, sì, è vissuto non bene perché lo si deve pagare, che è ben diverso. Ecco perché questa cooperativa vuole proporsi come intermediario fra un terzo pagante e, ci tengo a precisare, un terzo pagante etico, non un terzo lucrante, cioè quindi non, prima in sedi di conferenza stampa parlavo della dental chip, della dental shop, proprio per tenere via questi gruppi della finanza che vorrebbero lucrare sulla professione del dentista, noi abbiamo pensato di tenerci la governance diretta, noi medici-dentisti, e tramite economie di scala e tramite i tarifari calmirati di rivolgere, di offrire prestazioni di altissima qualità, quindi tutte, comprese l'ortodonzia, comprese la protesi fissa, perché non si deve più dire che il povero può mettere solo la dentiera, a tariffe calmirate che, perché? Perché riteniamo di poterci stare dentro e contando su una massa critica, perché così molte di quelle persone che andavano in Croazia restano in Trentino. A chi rivolgete principalmente i vostri servizi? I nostri servizi li rivolgiamo principalmente a un'utenza socialmente debole, intendendo socialmente debole, soggetti anziani a soggetti deboli per età, quindi bambini, e soggetti che hanno un indice economico di reddito, cioè un ICEF, che non consente loro l'alternativa diversa che andare all'estero o non curarsi i denti. Con la crisi sono tanti anche in Trentino coloro che senza essere poveri devono rinunciare alle cure dentistiche. È proprio a questi che noi intendiamo rivolgerci, perché altrimenti potrebbero cadere anche in trappole. Vuoi l'abusivo, vuoi appunto il gruppo finanziario che apre la famosa dental chip. Ecco, quello è il nostro utente, è il Trentino che non può fare grandezze, che ha una sua vita sociale e che vuole avere i denti a posto come qualsiasi altro organo del corpo umano, perché noi pensiamo che l'odontiatria, come tutta la medicina, sia una scienza umana. Intendiamo come scienza umana tutti gli uomini, indipendentemente dalle loro economie, indipendentemente dal loro sesso, età, religione. Nel vostro progetto si legge che tra i pazienti della cooperativa un posto di primo piano è riservato agli anziani. Certamente. Noi della cooperativa Fidente deriviamo tutti da un'esperienza quinquennale applicando in prima persona, in convenzione diretta, la legge provinciale numero 22, legge locale, legge comunque rubricata nelle leggi nazionali dello Stato. Questi soggetti, con questa esperienza, abbiamo capito quale sia la necessità dell'igiene orale nell'anziano e del mantenimento delle protesi. Quindi pensiamo di rivolgere loro, in tempi ragionevoli, sperando ancora quest'anno, meccanismi per poter andare nelle case di riposo e sistemare loro le dentiere, pulirle, conservare i denti residui perché sono ancoraggi alle loro dentiere rimovibili. Molti anziani hanno avuto prestazioni importanti nella loro vita valida, hanno implantologia e protesi di stazioni compresse, se non vengono mantenuti questi lavori portano sofferenza all'utenza e quindi riteniamo che in particolare il ruolo dell'igiene orale nelle case nell'anziano sia da potenziare perché è vuoto allo stato attuale. Oltretutto noi in provincia di Trento abbiamo una splendida attività che è quella dell'Università di Ala che produce il diploma laurea igienisti dentali che sono una risorsa incredibile per attuare questo progetto. Quindi speriamo di arruolarli, molti, nel nostro progetto e poter con loro andare nelle case di riposo a fare attuare programmi di igiene per l'anziano. L'ultima domanda, l'idea è originale. La cooperativa ha ideato un contenitore delle risorse professionali. Di che cosa si tratta? La spending review, la crisi, mette in difficoltà il piccolo libero professionista. Assumere oggi diventa anche difficoltoso. Costantemente si assiste alla perdita di risorse professionali. Parlo ad esempio delle ASO, le assistenti di studio dentoiatrico. Sono persone, molto spesso di sesso femminile, ma non è appannaggio esclusivo, che lavorano uno, due, tre anni da un dentista il quale poi deve ridurre il proprio lavoro e si trova per strada. Ecco che la cooperativa può prestare come contenitore per mantenere questo pedigree, questa capacità professionale e riversarla ad altri che ad esempio per fortune contingenti possono invece aver bisogno per 6-8 mesi di quella persona che così non perde il posto di lavoro. La stessa dica sì per i nealoreati in odontoiatria. C'è chi parla di pletero odontoiatrica all'orizzonte. Bene, vorrà dire che riusciremo ad assorbire anche questi giovani odontoiatri trantini affinché non vadano a fare prestazioni presso abusivi, presso dentisti o colleghi che potrebbero non dare il congruo pagamento, semmai esistano. Grazie.